Studio canto lirico da quando ho 13 anni. I miei genitori mi hanno sempre indirizzato verso la musica classica e il teatro, quindi è una passione che nutro sin da quando sono bambina. A 8 anni sono entrata nel Corrivo C. Bianche del Teatro Massimo di Palermo. Per me è stata un'esperienza fondamentale, mi ha fatto capire quanto io ami davvero il teatro. Quando ne sono uscita a 16 anni ho iniziato subito a fare vari concorsi in giro per l'Italia, ma anche all'estero perché volevo davvero e voglio tuttora davvero provare a costruire una carriera proprio all'interno del mondo del teatro. Sono stata a Valencia, sono stata a Riva del Garda, sono stata a Pienza, in varie località e a volte è andata bene, a volte non è andata bene, però sono cosciente del fatto che provando e riprovando prima o poi probabilmente riuscirò a realizzare il mio sogno.